Ciao ragazzi, qui è Delta28 e siamo su Hello vabbè, Master Chief Collection vabbè, quello che volete conteniamo Allo Rich e ci manca veramente poco non so che episodio siamo, mi sono già dimenticato cerchio di farlo tutto speriamo, quindi quei 40 minuti e che dire non vedo l'ora perché siamo quasi alla fine comunque, perché erano 14 capitoli e noi che capitolo siamo effettivamente mi sembra che siamo al sesto settimo non mi ricordo vabbè, dobbiamo, siamo in città ma quello che ho capito abbiamo problemi con i nostri soliti compagni e quindi è il momento di di sparare a visto e infatti eccoci qua ma io in tutto ciò non ho non ho niente dove visualizzare non ho nulla dove andare a vedere non lo so più che vedere ho una pistola schifosa sono messo malissimo raga, quanto sono messo male ferito grave che giustamente poerino mi ricordo molto Killzone comunque madonna madonna tagliata a metà la visuale proprio di colore lucidità zero ah che pelle due belle signorine bei pantaloni di pelle signora vedo gente morta qualcuno dice che devo entrare là ma giusto per comunque devo riportare raga assolutamente Doom 3 raga ah ma questi sono foglie mi inizia foglie e uccelli brutti vediamo qua se c'è qualcosa mi inizia buah madonna che che salti ma che cosa avete conto tutte le donne qua sono tutte donne raga eh però raga come questi pantaloni di pelle smettetela di avere i pantaloni di pelle cambiate raga un tel di bel peluche è qualcosa di fantastico non so che quanti di voi l'ha notato comunque poi questa era una bella coppia era a San Valentino ed era pure forse incinta la signora quanto mi dispiace basta con questi questo foglio che volete volate o lazza ma là c'è qualcosa per curiosità qua io posso fare una per me strazzata però non credo che troverò qualcosa già vediamo sono stati ammazzati tutti male ma poverini oh che bello vediamo cosa c'è qui ok devo entrare qua presumo no oh ehi se aspetta cavolo mi servono munizioni ok ok almeno con le munizioni sono a posto solo che dove è quel tizio dici graziato lo devo sparare perché si è nascosto ma mi serve una cura mi serve una cura inzica madonna che brutti occhiali signorina cura cura ti prego ah che bello la soddisfazione delle cure ma aspetta pistola grazie pura so che a pistola lo voglio aspettare un bellissimo come ha bellissimo come ha fatto ah questo però il cazzo bellissimo perché tu ammazzi più persone in questo perché questi si suicidano ah eh sì lo so perché mi stai girando qua e tramite il buio che non si vede nulla io vedo comunque tutto siamo pure la merdina comunque che brutta faccia io sono curioso di giocare all'1 poi raga eh eh però sta pistola fa male comunque ah ecco non l'avevo visto bello vedete che è meglio tenere la pistola qua posso ammazzare i topi bellissimo così a casa geniale uh ancora e la se trovo qualcosa di interessante qui no sì perché se c'era qualcosa di interessante a me fa ridere perché alla fin fine io li sto ammazzati tutti con con questi altri non lo so sei morto malissimo però è bellissimo che sto sparando tutti a vista è una cosa non lo so ah è un ratto ah 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 bitch please io li ho ammazzati tutti tranne a te eh però è buonissima sta pistola oh mi è stancato ecco il cavolo uo li ho ammazzati tutti è qualcosa di fenomenale e qui che cosa c'era che il giro non se l'avano ratto ah no si è tornato indietro comunque i giochi di una volta così mi sono sempre sempre piaciuti qua ci posso sta pure degli asterego qua so che non so dove non credo che qua se ne va infatti c'è il lucchetto ok no stavo insalminando se c'era qualcosa qui no dovrei andare di qua inizio che è conciato malino signori nooo come poveri così a casa che ho lanciato a granata ti ho salvato come ti chiami te? ah sarei di compagno ok vengono gente non dovreste venire qui gente gente ma siete pazzi bei pantaloni ah 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 scusatemi sono abituato eh dovevo cambiare un attimo si però non è che è andata al suicidio raga eh non per cattiveria dovete stare tranquilli ok non vazzardo uè salvio tutto bene come stai? oddio oddio somigli tanto a un mio amico ok andiamo ad aiutare a quelli qua c'è qualcuno per curiosità no 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 non mi sono cagato ma voi che c'è fate qua? oh con la pistola qua è pericolosa la pistola raga sta pistola è più pericolosa non per qualcosa è più pericolosa sta pistola mi sono ammazzata solo mi sono ammazzata solo lo confesso oddio quella tizia che c'è fa quella tizia? che dicevi? ah contatti giusto guardiamo very guardiamo guardiamo guardAmatoire cor Crass guardiamo 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 cu meditation guardiamo 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 Scusate, ma sono talmente concentrato a uccidere Ah, mi hanno tolto lo scudo Non l'avevo capito Ma dai, mi hanno annunciato la granata Non l'avevo visto la granata Ma dai, questo era una barzelletta Dai, questa era una... Vabbè, almeno sono qua Almeno Il trucco è proprio Far fuori prima questi da un lato Se no io non riesco a uccidere Vabbè, passo Ragazzi, lo sapete che questa pistola è peggio di quello che pensate? Guarda che questa pistola è anche peggio 360, sei impazzito? Ti chiami 360 perché il gioco è dato da 360 Per caso, sto chiedendo Puoi anche sparire Puoi anche sparire Sparisci Bella Tu sei forse l'unica ragazza L'unica ragazza che sto venendo qua Madonna che macello Però in tutto ciò ho delle... Ma che ci fate dei civili qua? Andatevene Cioè mi fate ridere voi civili Tu sei morto in maniera Un po' più bo Non lo voglio sapere E qui sotto che c'è? Io non sono in passato qui sotto Ah, è vero Munizioni Sì, scusate che sto un po' esplorando Per trovare qualcosa Munizioni Signore, tutto a posto Signore, tutto a posto Signore, tutto a posto Allora, che mi dice? Bella la giornata, eh? Sì Vedo che ancora gente scappa Cosa più che giusta Bella sono queste armi So che sono più indeciso Stavo vedendo se Se c'è altra gente qui Ma qui sopra Io non so Non ho mai salito Sì, sto un po' esplorando Magari se trovo qualche cosa Ok, niente di eccezionale Ok, perfetto Posso andare A parte che sto studiando Come non avete idea A munizioni Più o meno Ah, signore Hai scelto La zona sbagliata per stare Dobbiamo entrare qua Per insomma Quindi Signore Che devi scappare Signore Ma tu non eri morto Signore So perché Quei brutti occhiali Signore Non riesco a trovare Signore Siete tutti qua Guardate Proprio a rischio Di farvi sparare Io sbaglio sempre Ah Ma sei impazzito Cosa? Che cosa appena è successo? Eh, ho capito Però quello mi è andato addosso Con una granata Ecco perché non l'avevo visto Guarda dove scende Guarda dove è a terra Il parcheggio Questa appena è successo Allora Sbaglio 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 signori dovete andarmi d'acqua, grazie ma cosa? è sparito dimmi che posso usarlo, dimmi che posso usarlo oh se vieni, venite da papà ma do la soddisfazione voglio qualunque uno vuole giocare oh ma che vuole ah chi ti aveva visto? sparisci signori signori va bene siamo in una situazione molto schifosa dai ah scusciate guarda signorina tutta a posto hanno un po' le espressioni anime non so perché e sei pure carina mistica poverina stai leggermente soffrendo quella è morta sì non mi devo distrarre scusatemi tutta colpa dei pantoi di pelle cosa? jet troopers ma è geniale allora credio aspetta come era come per usarlo oh eh ops bellissimo no è troppo bello noi dobbiamo arrivare andiamo a Dolce Bob andiamo a Dolce Bob dai prima tu questa non me l'ha aspettato vabbè raga non è un'arma buona ah ho sbagliato ho sbagliato ho capito me l'ho sbagliato ho sbagliato ho sbagliato ho sbagliato ho sbagliato tazzo vittura ho sbagliato dai fatti fatevi i soldi no non funzionava più ho sbagliato io ero sicuro che potevo usarlo ok ok non avevo capito si questa arma è buona fino a un certo punto che ora devo cambiare arma però prima la uso per togliere di mezzo ah ah ho cambiato avevo cambiato dopo fico figo allora cambio la prima arma Sì perché sennò qui E non mai scelgo Voglio solo far esplodere quel cacchio di cosa Ok fuori uno What? Ciao Ma cosa? Ma cosa? No cacchia No No Aspetta No dai Ma mi stanno prendendo per i fondelli però Mi stanno prendendo per i fondelli un po' Eh scusatemi Ma ma mi stanno prendendo un po' in giro C'è un limite Minchia Ok 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 No ragazzi Non posso perdere così dai Oh scusa Scusami Ero sicuro che era un avversario Errore mio Può succedere Scusami davvero Ti giuro Che mi Pensavo Pensavo che era un nemico L'ho visto all'improvviso e mi sono spaventato Pure qua Eh faccio i peggiori morti I peggiori assassini Oh Non si sa mai Questo mi può servire Ora Come siete arrivati là Ah ok Però pure tu è Madonna Che brutto Ora Ora so chi è Che mi dava noia Con le granate Ora so chi è Sei rimasto solo tu in pratica Tu E Bob Non più Appena mo c'era Bob Ah era sopra Bob No E' molto Bob Vabbè Tutta Mi sono morti praticamente tutti Guarda solo lui è rimasto Poveraccio Vabbè In realtà Devono essere in due Notando che ho ammazzato Occidentalmente Dovano salire sopra Sì Tu stai correndo Io ti vedo morto Comunque Siamo di quelli Personaggi Che morirà Sicuramente male Ah io ho ancora Il getto Che figo Sì ma io dovevo andare Tutto ciò Ah lì sopra In che senso All'interno della tappa E io che devo fare adesso Sono arrivato qui Quindi Beh a me abbiamo uno Che si chiama Ryan Ah mo se è andato Ok Meno male Sì Ah ma voi Non eravate Quelli feriti Più o meno No Vabbè Che devo Ok Allora Allora Scusate Scusate che sono Scusate che sono Tantale concentrato Che faccio Fuori a questi Pezzetti Scusate che sono Fuori a quelli No da dietro Da dietro Che sfiga Ma che sfiga Tantissimo Vabbè raga Faccio così Io la stoppo qua Perché sta durando un bel po' E abbiamo fallito Ho perso un po' di più Troppo tempo Quindi Io vi saluto Con questa qua E qui dal 38 Al prossimo video Passo e chiudo Grazie a tutti